Il processo ad un ex presidente che si presenta in tribunale è una prima assoluta in Francia. Nicolas Sarkozy va alla sbarra lunedì accusato di corruzione. Lo assiste l'avvocato Thierry Herzog, ma il groviglio non chiaro rimanda anche a un ex giudice supremo della Corte di Cassazione, Gilbert Aziver. Di cosa è accusato Sarkozy? Bisogna risalire al 2013, quando i giudici decisero di intercettare l'ex presidente durante un'indagine sul possibile finanziamento libico della sua campagna presidenziale annata 2007. Sarkozy adoperava lo pseudonimo di Bismuth per chiamare il suo avvocato col quale parlare dell'imminente decisione della Cassazione in merito al sequestro delle istruzioni presidenziali relative ad un altro procedimento contro di lui. La Cassazione doveva stabilire se questi ordini del giorno potevano essere utilizzati in altre indagini che vedono ancora coinvolto Sarkozy. Le intercettazioni telefoniche inducono a sospettare che l'ex presidente e il suo avvocato abbiano tentato di pilotare il giudice Aziver, che poi sarebbe stato premiato con un incarico al Consiglio di Stato a Monte Carlo. L'ex presidente rigetta queste accuse e sostiene di non aver chiesto alcun favore alle autorità monegasche per Aziver. Ma nelle carte giudiziarie il procuratore sottolinea che anche se Aziver non ha ottenuto l'incarico, è sufficiente la semplice sollecitazione o accettazione. L'ex presidente parla di strumentalizzazione politica della giustizia, mentre rischia fino a dieci anni di carcere una multa di un milione di euro se venisse condannato. L'ex presidente, già in pensione, deve anche prepararsi al processo sulle spese della sua campagna per le elezioni presidenziali del 2012. Non è tutto. Non è ancora stato prosciolto dalle accuse di aver goduto di un finanziamento libico per la sua campagna presidenziale nel 2007. Grazie. Grazie. Grazie.